Da richiedente asilo a star del web, con questo video pubblicitario Ashno, un togolese di 24 anni, rapper, che oggi ha già il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, sta diventando famosissimo. Il video, realizzato da produzioni creative per loro stessa ammissione, decisamente web, sta però spopolando. Il video nasce dalla richiesta di un negozio che vende kebab per farsi conoscere, ma forse nemmeno loro potevano immaginare il boomerang pubblicitario. È stato infatti condiviso da decine di migliaia di utenti nei social ed ha scatenato l'ironia di questo o quell'altro blog. Dopo la pasta col tonno di Bella Figo e la pizza di Gali, è raggiunto il momento di comporre un inno a un altro eroe dei nostri tempi, scrive Super Eva, salvatore dei picchi di fame alle tre di notte e scelta economica ma sostanziosa il kebab. Avete sudato, prosegue l'articolo, per anni per ottenere una laurea in marketing o magari un master in pubblicità e management? Prendete pure il vostro attestato e gettatelo nella pattumiera. Abbiamo qui il vero re degli sport di tutti i tempi. Mi sono concentrato e ho messo un giorno per scrivere questo testo. Mi ricordo era fino alle due che mi sono rimasto su un foglio, scrivevo e di là ho riuscito a fare un testo così. Anche la musica hai scritto? Certo, ho fatto tutto io. Insomma, ad Arezzo abbiamo il nostro Bella Figo, ma è lui stesso a sgomberare il campo da polemiche legate alla presenza di migranti nel nostro territorio. Alla fine, meglio mangiarsi un bel kebab per mettere a tacere tutte le male lingue. Per questo io direi che siamo stranieri e siamo in un paese che non è il nostro. Bisogna fare le cose positive per poter andare avanti. Io in questa canzone non ho parlato della politica, però ho fatto una cosa che mi è venuta in cuore e a posto. Mi fai sapere com'è il panino? È buonissimo, mamma mia! Che barna stazione! Numero uno!